Ciao a tutti e benvenuti a Giallobook, le video recensioni sui libri gialli. Oggi vi parlo di un libro che non mi è piaciuto per niente. Sto parlando di Il caso Bramard di Davide Longo del 2019 di 273 pagine dell'Einaudi. Da un punto di vista di grafica, belli colori e immagini di copertina e quest'ultima, almeno secondo me, non richiama del tutto la trama. Meno bello anche la presenza delle alette interne. Corso Bramard è un ex poliziotto che, vent'anni prima, aveva perso in un incidente moglie e figlia. E in tutto questo periodo ha ricevuto delle lettere anonime da parte di una persona e con l'aiuto del commissario Arca di Pane cerca di risalire all'identità di questa persona. Da un punto di vista di trama, la storia ci sta. Da un punto di vista di stile, il libro si presenta con dedica, citazione, storia, note dell'autore. I capitoli sono denominati con un numero posto in alto a sinistra sopra il testo. Alcune parti del testo sono scritte in corsivo e in inglese, altre in stampatello. Lungo le pagine pari nel testo c'è il nome dell'autore, e lungo le pagine dispari il titolo del libro, cosa che a me non piace. E un'altra cosa, all'inizio capitolo manca sia il numero della pagina, sia se è pari o dispari, o il nome dell'autore o il titolo del libro. Di questo libro, cosa mi è piaciuto? La scorrevolezza, il realismo, il fatto che è scritto ambientato in Italia, l'immagine e i colori della copertina, mentre l'immagine e l'aletta interna della copertina, la trama, l'uso di volgarità e parolacce, e la presenza della scritta, il titolo, cioè, del nome dell'autore, del titolo del libro lungo tutto il libro, sono le cose che a me non mi sono piaciute. Di questo libro, cosa penso in conclusione? Allora, è un libro brutto, oggettivamente brutto, nel senso che, vuoi per la storia, vuoi per il fatto che non venga descritta la città dove vengono svolti i fatti, vuoi per l'eccessivo uso di volgarità e parolacce, vuoi perché non, a volte si fa fatica a capire chi sta parlando e chi no, vuoi perché non è cupo, un senso di cupo per la storia, per la vita di questo personaggio, il libro è brutto. Nonostante sia scorrevole, sia scritto e ambientato in Italia, sia anche leggero, ecco, o meglio, più leggero di altri libri, e non lo so, cioè, non c'è pareggio tra le due cose, cioè, sbilanciato verso il negativo. E detto questo, mi sento di non consigliarlo, a meno che voi non amiate questo genere di libro, perché in questo caso è fantastico, ma se, come me, non amate questo genere di libri, questa tipologia di storia, lasciate perdere. Detto proprio col cuore. Bene, detto questo, fatemi sapere se l'avete letto, se vi ispira, se lo comprenderete, cosa ne pensate, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella se vi va, se vi piace il video che faccio, di iscrivervi al canale di cui trovate i link in descrizione, di farmi sapere sempre nei commenti se e quali nuovi format volete, che, vi ricordo, che se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo, potete iscriverle sempre sotto nei commenti e risponderò appena possibile, e vi annuncio, barra, vi ricordo, che il 30 settembre, alle ore 21 circa, sarò in live qui su YouTube per festeggiare con voi i dieci anni dalla nascita del mio canale YouTube. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Grazie a tutti.